2 Dicembre 2021, Messaggio di Nostra Signora Regima della Pace Cari figli, sono la vostra madre addolorata e soffro a causa delle vostre sofferenze. Piegate le vostre ginocchia in preghiera, perché solamente con la forza della preghiera potete sopportare il peso delle prove che verranno. La grande imbarcazione avanza verso un grande naufragio. Molti giusti saranno cacciati fuori, ma il Signore verrà in soccorso dei Suoi. Abbiate coraggio e testimoniate che siete del Signore. Non vi allontanate dalla verità. Ascoltatemi. Cercate forze nel Vangelo e nell'Eucaristia. Quando sentite il peso della croce, chiamate Gesù. Egli vi ama e non vi abbandonerà. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Felti ciarate in regla. 跨ing cinza. Egli vi起. Gia dello Spirito Santo. Il come giorno che è l mismo, Grazie a tutti.